UbiBank è la prima società quotata italiana insegnita del premio European Grand Prix della Mixi-T alla sua prima edizione per le società del Fuzzimib. Si tratta di un riconoscimento istituito per valorizzare e promuovere le organizzazioni che si distinguono per le best practice in tema di diversità di genere che con l'edizione 2018 è per la prima volta attribuito su scala europea. Essere i primi in Italia a ricevere questo riconoscimento sottolinea l'attenzione che UbiBank dedica costantemente alla valorizzazione del talento femminile in azienda. Essere i primi in Italia a ricevere questo riconoscimento sottolinea l'attenzione che UbiBank dedica costantemente alla valorizzazione del talento femminile in azienda che si traduce in un'ampia e significativa rappresentanza a livello apicale e manageriale, ha dichiarato Letizia Moratti, presidente del Consiglio di gestione di UbiBank. Si tratta del risultato di best practice in termini di gender diversity nei confronti delle quali è oggi sempre più viva l'attenzione di tutti i stakeholder e anche grazie a questo premio ci auguriamo che venga incoraggiata la diffusione di tali best practice presso tutta la comunità economica finanziaria. UbiBank è risultata vincitrice nell'ambito di un panel composto dalle prime 40 società quotate alla borsa italiana che compongono l'indice Fuzzimib e che come tali appartengono ai diversi settori che vi sono rappresentati.